ciao, è tempo di andare a scuola eccoci a scuola ehi amico, come va? bene è tempo di scuola, ehi! ciao insegnante ok ragazzi, impareremo gli strumenti musicali bella ragazzina, tu prendi una tromba grazie mentre tu avrai la batteria fico e Jason, tu prenderai il flauto ok ehi, non voglio suonare il flauto fuggiamo dalla scuola ehi, ciao! amo questo film brava ragazza bravo ragazzo e bravo Jay dov'è Jason? dov'è Jason? dov'è finito Jason? Jason deve essere qui eccoti qua forza forza, torna a scuola smettila forza torna a scuola e sbrigati ok ragazzi impareremo la frutta che suono è questo? Jason, porta via subito il pollo perfetto ragazzi impareremo a conoscere la frutta Jason? 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 si? non dormire in classe voglio attenzione voglio energia ed attenzione mi dispiace e mi dispiace così tanto ok ragazzi impareremo a conoscere la frutta tu prendi questo tu prendi questo e Jason prende questo non dite niente oggi vi voglio insegnare i frutti e i frutti sono molto importanti fuggiamo ragazzi cominciamo ad imparare cos'è questo? ananas bene questo è l'ananas e quello che cos'è? carota bene quella è una carota e che cos'è? cosa? dov'è Jason? devo trovarlo facciamolo di colore blu il cielo è blu è blu è blu è blu è blu come il cielo Jason torna ora a scuola allora Jason che cos'è questo frutto? è un'anguria si bravo batti il 5 ottimo lavoro Jason Jason impara tanto a scuola sì sì